Tentata estorsione, violenza privata, atti persecutori, rapina, lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono i reati di cui dovranno rispondere sette persone arrestate questa mattina nel corso di un blitz alle prime luci dell'alba eseguito dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. I sette soggetti indagati raggiunti da un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura della Repubblica di Salerno sono tutti di nazionalità indiana incensurati destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è scaturito dai gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti in relazione a diverse ipotesi di reato commessi in danno di un loro connazionale, un giovane imprenditore titolare di vari saloni di barbiere a Battipaglia e in altre città italiane, il quale sarebbe stato più volte avvicinato e minacciato e a cui sarebbe stato richiesto del denaro in cambio della protezione che gli indagati avrebbero garantito in favore del suo negozio. La vittima, rifiutando le minacce estorsive perpetrate dallo settembre del 2022 a febbraio 2024, sarebbe stata sottoposta a reiterate condotte minatorie, vessatorie e violente. Sono inoltre ritenuti gravemente indiziati di ulteriori reati, quali rapina aggravata, violenza privata e lesioni personale aggravate, per aver messo in atto condotte violente e intimidatorie anche nei confronti di altri due connazionali vicini alla vittima. Uno di questi, lo scorso 4 maggio, sarebbe stato rapinato del proprio zaino in via Roma, mentre l'altro, il 4 dicembre dello scorso anno, sarebbe stato aggredito e ferito con una spranga. In quell'occasione, alcuni dei destinatari della misura cautelare di oggi furono trovati in possesso di una mazza di ferro, bastoni in legno e tirapugni in acciaio. Gli indagati nei mesi scorsi avrebbero letteralmente perseguitato la vittima della richiesta estorsiva e le persone a lui vicine per determinare l'isolamento e per indurla a cedere alle richieste di denaro, minacciando anche ritorsioni trasversali nei confronti dei suoi familiari residenti in India. Grazie a tutti.